Rimedio al tè verde per eliminare lacne Si sa, il tè verde va di moda. Ultimamente sta richiamando sempre più adepti tra quelli che cercano di avere una vita sana. . Sappiamo che è un meraviglioso antiossidante, un buon diuretico, che può curare ferite interne e che aiuta persino a perdere peso. Tuttavia, sapevate che recenti studi scientifici sostengono che è anche eccellente per risolvere problemi della pelle come lacne. . I grandi benefici del tè verde per eliminare lacne. . Il tè è sempre stato una parte indispensabile della cultura asiatica sin dallantichità. Tuttavia, non si tratta di una semplice bevanda. . I tè rappresentano un ulteriore trattamento per la salute, un rimedio specifico a seconda della loro composizione. Il tè verde è, secondo Harvard e Alte Publications, uno degli infusi con più antiossidanti presenti nella sua composizione. . 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 Potete utilizzare dell'ovatta per inumidire il viso, oppure un vaporezzatore. Si tratta di un tonico, quindi basta applicarlo sulla pelle e lasciarlo agire. . Ricordate, tre volte al giorno, mattina, pomeriggio e prima di andare a letto. Successivamente preparate un altro trattamento da seguire due volte alla settimana, ma solo la sera. Unite al tè verde dell'aceto di mele. Vi starete chiedendo perché. La risposta è perché è ottimo per ritirare i punti neri, per curare l'acne e per equilibrare il pH della pelle. Basta unire un cucchiaio di aceto di mele con una tazza di tè verde. Applicatelo come un tonico e lasciate agire tutta la notte. Di mattina lavatevi con acqua tiepida e applicate la crema idratante che usate normalmente. Vedrete i risultati in poco tempo. .